Ci sono anche tanti aspetti di carattere giuridico che rilevano, quindi poi ovviamente quando si andrà anche al giugno in inizio c'è anche un contesto condiviso. Quindi diciamo che in questi giorni, come è spesso accadere nell'estate, ci sono delle polemiche che sono molto dell'interesse anche dei media che ovviamente possono lavorare su questo. Arriveremo a una proposta condivisa che abbia elementi di ragione. Grazie a tutti.